Hello Moto! Amici ed amiche di Spazioitech, oggi video veramente esclusivo e super! Vi invito a lasciare tantissimi mi piace, iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi tanti contenuti simili che sono in arrivo nelle prossime giornate, ne vedrete veramente nelle belle! Vi lascio subito dopo la sigla al nostro video, primo contatto anteprima con niente poco di meno che Motorola Razor 5G, impresa diretta dall'evento di Milano di soltanto pochi giorni fa! Gustatevelo appieno, veniteci a trovare sui social, fateci sentire il vostro supporto! Motorola Razor 5G Partiamo subito con il botto davanti con le due nuove colorazioni, quella oro e quella argento silver che vanno a ricalcare quello che erano i colori storici del primo Razor, quindi che vanno a affiancarsi alla colorazione nera, quindi tre colorazioni quest'anno, modifiche di design, modifiche sostanziali e cambiato tanto per questo Razor 5G 2020, più di quello che una semplice occhiata potrebbe far pensare, a partire da un aspetto fondamentale, non tanto il 5G ma la presenza di uno slot carrellino per le sim, quindi potete andare a inserire una nano sim all'interno, il Motorola Razor 5G è dual sim, quindi la seconda sim rimarrà sempre come formato e sim, però piacevole questo nuovo formato delle sim che rende il dispositivo Razor 5G compatibile con tutte le reti e non è vincolato a nessun operatore, andandolo però a prendere in mano, andandolo ad aprire, andandolo un po' a scoprire, le migliorie sotto il cofano, ma anche a livello estetico sono veramente tantissime, un video solo non basterà, questa è la nostra anteprima direttamente proprio dall'evento di Milano di lancio e di presentazione, dal bellissimo spazio Lenovo di Milano appunto, vi invito a tutti andare a fare un salto perché ne vale veramente la pena, potete toccare con mano e vedere con i vostri occhi tutti quelli che sono i prodotti del portfolio Lenovo e Motorola, ci siamo ovviamente concentrati sul Razor 5G che va a riprendere tutto quello che è stato di buono visto soltanto 12 mesi fa con il primo Razor, migliorando tutte quelle che erano le aree un pochino più buie, rimane una piccola crisp, chiamiamola così, sul display, essendo ovviamente un plastic OLED interno da 6,2 pollici, coadiuvato da un display esterno da 2,7 pollici, OLED anch'esso, che grazie al nuovo aggiornamento ad Android 10 diventa un display secondario veramente fruibile, qui in area demo era presente un software non definitivo che non ci ha fatto permettere di sfruttare a pieno tutte le potenzialità, ma potrete andare a utilizzare tante applicazioni direttamente sullo schermo esterno senza dover andare ad aprire e chiudere il vostro Razor in continuazione, dato che aiuterà la batteria che è da 2800 mAh, quindi un dato non dei più incredibili e dei più grandi, ma vista comunque l'estrema sottigliezza di questo design molto tagliente, anche se con linee più morbide, secondo me è da vedere in maniera assolutamente positiva. Linee più morbide, dicevamo, frutto anche di nuovi materiali, sparisce completamente la plastica sostituita da vetro e metallo, sia per i bordi che per il retro, quindi sparisce il policarbonato che era presente sulla back cover del primo dispositivo, back cover nella quale compare il sensore, con sopra stampata la M alata di Motorola, per il riconoscimento delle impronte digitali. Presente anche una singola fotocamera, difficile da definire se posteriore o nello schermo anteriore, quindi che potrà essere utilizzato sia per i selfie, sia per le vostre foto principali, singolo obiettivo, lo ripeto, 48 megapixel, quindi risoluzione che aumenta, che assolutamente va incontro alle esigenze di miglioramento rispetto alla prima versione, una delle aree che era stata più criticata. Area che era stata criticata era quella del processore di passata generazione, che qui viene sostituito con un ben più performante ed anche ovviamente adatto alle reti di nuova generazione, Snapdragon 765G, lo stesso di Moto Edge per intendersi, quindi un processore che è assolutamente ben conosciuto in questi mesi, per le sue doti di buona, grandissima, ottima gestione energetica, senza nessun assolutamente rimpianto lato funzionale. Il tutto coadjuvato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria utente, non espandibile, quindi non potrete andare ad aumentare con microSD la memoria a disposizione. Nel Tour Software avete visto quella che è la velocità di sistema, ovviamente un po' anestetizzata da quello che è l'evento, da un po' quella che è la circostanza, ovviamente il software non definitivo, focus particolare sulla fotocamera che punta tanto l'utilizzo a una mano, con un'interfaccia riscritta e esclusiva proprio per il Moto Razor, vi sto facendo vedere quella che è la velocità di scatto, che secondo me è assolutamente ottima, come è, secondo me, ottima la resa, manca sì una lente grandangolare, però diciamo che bisogna capire un po' quello che è lo sforzo fatto dagli ingegneri Motorola per riuscire a restituire all'utente un dispositivo veramente maneggevole, pratico, che va, nonostante un miglioramento di materiali, a ridurre il suo peso, quindi che scende sotto i 200 grammi, un dato secondo me molto interessante, il tutto con la solita esperienza software di Motorola che abbiamo imparato a conoscere negli anni, una skin molto leggera, su base in questo caso Android 10, che fa della velocità e della fluidità il suo punto di forza. Se sarà abbastanza per convincere la prova dei fatti, speriamo di potervelo raccontare presto nel corso della recensione completa, questo intanto era il primo assaggio di Motorola Razor 5G. Grazie a tutti.